Nuovo record di contagiati per il Veneto con 8.666 positivi in 24 ore. Trend che non fa ben sperare. L'ingresso in zona arancione guardando la pressione ospedaliera è sempre più vicino. Oggi abbiamo i contagiati, fra qualche giorno abbiamo i ricoverati, dovete sempre ragionare in questa maniera. Vi ricordo che l'altro ieri vi ho detto che con 800 più o meno ricoverati in più, noi passiamo in zona arancione. Dati di oggi che fotografano la situazione del Natale parlano di tempi di incubazione accorciati. Se noi guardiamo la storia dei ricoveri, sono tutte persone che si sono infettate negli ultimi 4-5 giorni. Non ho gente che sta lì. Quindi anche tutte le infezioni di questi giorni che si rendono evidenti, si vede anche che si è molto abbreviato il tempo dell'evidenza dell'infezione. Quindi stiamo raccogliendo adesso la fase natalizia. Se i cittadini non hanno capito come comportarsi, raccoglieremo anche quella di fine anno. A fronte di 80.456 persone in isolamento, Zaia torna a parlare del sistema di contact tracing diventato ingestibile e delle difficoltà legate ai tamponi. Necessario un cambio di strategia, cambiare le regole di quarantena per non fermare il paese. Dobbiamo prendere atto che c'è un punto di non ritorno ormai, oltre al fatto che non possiamo mettere in quarantena a mezzo d'Italia, se no vuol dire che è meglio facciano il lockdown e fare una quarantena obbligatoria per tutti, ma questo noi non lo vogliamo. Grazie. 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 Grazie.